Bioresistenza ai cittadini attivi, costruttori di comunità a partire dall'agricoltura. Questo è il tema affrontato nel corso dell'incontro promosso da Rete Attiva, la rete delle associazioni andriesi che collaborano per migliorare la città, per sensibilizzare i cittadini alla difesa del territorio e verso uno sviluppo più sostenibile. Tante le esperienze di imprese agricole già attive sul territorio. Marilena Pastore. Sempre più diffuso il ritorno all'impresa agricola. C'è chi gestisce una cooperativa per un riscatto sociale, chi ha lasciato il lavoro in banca per dedicarsi all'apicoltura, chi dopo la laurea ha preferito tornare alla terra, ma anche chi ha cominciato il rivoluzionario concetto di ordo sociale. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di giovani che con tanta voglia di fare onestà, intraprendenza e coraggio stanno rivoluzionando silenziosamente il modo di fare agricoltura. Accade anche ad Andrea. Se ne è parlato presso la biblioteca comunale nell'incontro Bioresistenza ai cittadini attivi, costruttori di comunità a partire dall'agricoltura. Promosso da Rete Attiva, la rete delle associazioni andilesi, con l'obiettivo di sensibilizzare più persone possibili ad avvicinarsi ad una politica in difesa del territorio, con un consumo critico e, se possibile, solidale, e sostenere così tutti i giovani che in questi ultimi anni stanno avviando progetti significativi di agricoltura biologica e di sviluppo sostenibile della terra. Oggi si parla di agricoltura perché il tema che questa volta Rete Attiva affronterà è proprio il tema del bene comune. I beni comuni sia materiali come possono essere gli spazi pubblici della città, ma i beni comuni anche materiali come può essere il capitale sociale e il capitale umano. Oggi invece vogliamo concentrarci sul bene comune suolo con una serie di testimonianze che ci dimostreranno come è possibile fare agricoltura in modo sostenibile e, anche se possibile, in modo solidale. Presentato durante la serata, il docufilm è il libro di Guido Turus Bioresistenze che raccoglie proprio testimonianze di esperienze di giovani agricoltori, di cooperative che gestiscono i beni confiscati, di aziende a conduzione femminile e ancora di salvaguardi dell'ambiente. Bioresistenze è un libro e poi un documentario costruito assieme alla Confederazione Italiana Agricoltori per raccontare tutta quell'agricoltura che nel nostro paese difende il paesaggio, tutela le produzioni sane di un territorio, ma anche tutta quell'agricoltura che fa antimafia, pensiamo alle cooperative dei giovani che gestiscono terreni confiscati alle mafie, pensiamo a tutta quell'agricoltura che non abbandonando un territorio impedisce che quel territorio venga sfruttato e diventi vittima di sopprusi e di lobby. Tutta quell'agricoltura che ci difende dal rischio idrogeologico, tutta quell'agricoltura che pensa al bene comune suolo e pensa a come far star bene la comunità che gli sta attorno. L'agricoltura è un grandissimo spazio di socialità dei territori e delle comunità che vivono attorno. Io mi auguro, come da tutti gli incontri che stiamo facendo di presentazione di questo lavoro, che emerga una maturata coscienza politica e culturale dell'agricoltura. L'agricoltura ha un ruolo che non è soltanto quello economico, è assolutamente quello, l'agricoltura è un'attività economica di un territorio, ma l'agricoltura è anche qualcosa in più. Io mi auguro che la società civile capisca il grandissimo significato che l'agricoltura ha e che l'agricoltura non sia da sola nella gestione del territorio. L'agricoltura si è accompagnata dalla società civile in questa grandissima responsabilità di prendersi cura dell'ambiente, delle comunità, del paesaggio e delle società che stanno e che ruotano attorno alle campagne.